I comuni di Auletta, Pertosa, Rofrano, Guardiareggio in provincia di Campobasso e Atella in provincia di Potenza hanno aderito insieme al bando del MIBAC dei Borgin Festival con il progetto I luoghi della transumanza. Per attività che migliorino la qualità della vita degli abitanti dei piccoli comuni italiani, il Ministero Sovvenzione e Iniziative Culturali da realizzare in realtà con popolazione fino a 5.000 abitanti. Ci sono 250.000 euro per i comuni che partecipano in rete. I cinque comuni hanno presentato un unico progetto per la promozione di itinerari turistico-culturali ad appena un anno dal riconoscimento della transumanza quale patrimonio culturale e materiale dell'umanità. Auletta, Guardiareggio, Atella, Pertosa e Rofrano puntano a valorizzare i trattori, larghi sentieri erbosi che attraversano il paesaggio senza guastarlo, via che nei millenni hanno prodotto civiltà, leggende, abitudini, oggi luoghi di passeggio e di intrattenimento, coniugando tradizione e modernità per chi assapora il cammino lento per raggiungere mete turistico-religiose. L'area interessata dal progetto è l'Italia centro-meridionale da cui sono stati estratti, lungo la direttrice, provincia di Campobasso, provincia di Salerno, una serie di comunità pauniti dal filo comune delle pratiche legate alla transumanza, attraverso strumenti per la comunicazione, come può essere un'app, l'organizzazione di eventi, anche formativi. Il progetto punta a raggiungere sia la popolazione locale, affinché acquisti consapevolezza del valore dei propri luoghi e valuti la possibilità di investirvi, sia il turista per riscontri positivi a breve e lungo termine per i territori coinvolti e le aree limitrofe.